La Biblioteca della Regione Piemonte, di recente entrata a far parte del Polo Regionale Piemonte 2 del Servizio Bibliotecario Nazionale SBN, offre nuove opportunità di lettura. Ha infatti aderito al progetto Interlibrary Loan SBN, il Servizio Nazionale di Prestito Interbibliotecario di Fornitore a Documenti, accessibile su internet. Il prestito interbibliotecario ha durata di un mese non rinnovabile dalla data di consegna. In caso di mancato ritiro i documenti vengono restituiti alla biblioteca prestante e il lettore viene sospeso dal prestito interbibliotecario per un mese.